Il Fratelli d'Italia si presenta a queste elezioni nel centro-destra, perché noi siamo persone che non vogliono regalare questo paese alla sinistra, ma per differenziare l'offerta, per essere un centro-destra diverso, il centro-destra alternativo per il voto dei moderati a quello che è il PDL, di cui noi facevamo parte e da cui siamo usciti, per delle motivazioni, perché altrimenti non ci avrebbe portato a fondare pure all'interno della coalizione un nuovo partito.